Curcuma Ecco cosa fa un pizzico di curcuma ogni giorno per il tuo cervello e la memoria La curcuma è originaria del sud-est asiatico, viene utilizzata in cucina per aromatizzare i nostri piatti. . A questa spezia vengono attribuite molte virtù per la salute, ecco quali sono. Benefici per la salute di memoria e cervello. La ricerca ha dimostrato che la curcuma è in grado di trattare i disturbi digestivi, alleviare le malattie infiammatorie come lartrite, migliorare la funzione cerebrale e ridurre il rischio di malattie cerebrali. . I componenti benefici della curcuma. La curcumina contenuta nella curcuma ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e protegge dalle malattie legate allo stress ossidativo come il morbo di Alzheimer o le malattie cardiovascolari. . La curcumina aiuta anche a esercitare effetti anti-cancro per le sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie. . La curcuma contiene nutrienti come il ferro, essenziale per il trasporto di ossigeno e la formazione di globuli rossi nel sangue e manganese che agisce come cofattore di numerosi enzimi per facilitare i processi metabolici. . Inoltre, è stato dimostrato che la curcuma è un mosto per la salute del cervello e della memoria. . La scienza afferma che la curcuma migliora la salute del cervello e la memoria. . Secondo uno studio pubblicato nella Monash University, laggiunta di un solo grammo di curcuma a colazione migliorerebbe la memoria delle persone che si trovano nelle prime fasi del diabete o che sono a rischio di compromissione cognitiva. . . Quindi, secondo il professor Marco Alcquist, la memoria è una facoltà mentale importante ed essenziale per le abilità cognitive come la pianificazione, la risoluzione dei problemi o il ragionamento. . . Inoltre, l'assunzione giornaliera di curcuma può portare a un miglioramento della memoria e delle funzioni cognitive in presenza di un metabolismo energetico disordinato e di una resistenza all'insulina e di prevedere futuri disturbi e demenza. . . Inoltre, uno studio dell'Università della California di Los Angeles, UCLA, suggerisce che la memoria e l'umore possono essere protetti con la curcumina. . Infatti, le proprietà anti-infiammatorie della curcumina sono in grado di proteggere il cervello dalla neurodegenerazione. . Pertanto, la somministrazione orale giornaliera di curcumina in un gruppo di individui, di età compresa tra 51 e 84 anni, senza demenza, ha portato a una riduzione dell'accumulo di amiloide, aggregato proteina esistente nei neuroni, e tau, proteina che si accumula nel neurone, nella regione del cervello per modulare l'umore e la memoria. . . Allo stesso modo, secondo uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento di Neurologia, Sepulveda in California, la curcumina potrebbe condurre a un trattamento promettente per la malattia di Alzheimer. . 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 Non è raccomandato consumare la curcuma in caso di gravidanza o ulcera gastrica. . Consultare sempre il proprio medico in caso di dubbi.